la nomina di Figiolo per la ricostruzione per l'Emilia Romagna, poi c'è il nuovo codice della strada. Allora, a partire da l'ora, il mattino di Puglia e Basilicata apre proprio con il rifiuto di ogni mediazione, anche se viene dal Papa, Zeleschi non conviene la pace, come dà torto all'idea ucraino, riceve parlate di miliardi di dollari e armi di cui non rende conto nessuna, parecchia per la ricostruzione una ghiotta torta, sta ottenendo di entrare in Europa e nella Nata, insomma tutto ciò può valere il massacro di tante vite umane. Action Aid, così la guerra affame i paesi poveri, Orban inaccettabile, dare altri 50 miliardi a chi vede ai fondi dell'Unione, Meloni tutta contenta per l'invito di Baye della Casa Bianca entro luglio. E poi il via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo codice, freno a mano di Salvini per la sicurezza stradale, ritiro della patente a chi guida col cellulare, tolleranza zero per chi ha il volante sotto gli effetti di alcol e droghe, casco, targa e assicurazione per i monopatini.